Anche il buongiorno dalla redazione di Omnibus e da Omnibus che questa mattina cercherà di capire che cosa sta succedendo in Medio Oriente. Come potete immaginare, questa notte non si è dormito molto perché tutte le voci degli analisti davano per imminente l'attacco da parte dell'Iran verso Israele e ovviamente l'allarme ancora non solo non è cessato ma anzi si alza di livello. Questo comporta ovviamente riflessi in tutto il mondo e ci occuperemo anche di capire che cosa poi significa per la nostra politica, per il nostro dibattito interno e in particolare per un tema che dovrebbe essere un fil rouge che unisce tutte le cancellerie e le politiche che è quello della politica estera, per l'appunto è invece causa di visioni. Dopodiché ci occuperemo inevitabilmente della questione che oggi è più presente su tutte le prime pagine dei quotidiani, ovvero del crollo della borsa ieri di Tocchio e di conseguenza anche di quella italiana. Ieri se siete spettatori a Silvi di Omnibus avrete visto, avrete sentito che già ne avevamo accennato con il nostro ultimo ospite della mattinata Carlo Calenda che diceva ma in realtà non è una sorpresa. Le premesse e i prodromi c'erano tutti, c'era peraltro anche stato già un venerdì nero nelle borse statunitensi, cercheremo di capire però di che cosa si tratta adesso, se è solo una impennata, un fuoco di paglia o qualcosa di peggio. Intanto vi presento i miei ospiti a cominciare dall'onorevole Alessandro Cattaneo di Forza Italia. Buongiorno, grazie per l'invito. Insieme con noi in studio c'è anche Matteo Giusti, buongiorno. Ben ritrovata anche lei, ricercatore di Limes che è appena tornato da un giro molto interessante proprio in quelle zone dal Cairo alla Giordania, insomma quindi ci potrà raccontare che cosa si sta muovendo per l'appunto da quelle parti. L'euro parlamentare del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Antoci, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno, bentrovati, buongiorno. Eccolo, perfetto, il collegamento è funzionante così come spero lo sia anche quello di Iuri. Maria Prado, avvocato, opinionista, scrive sul riformista, sull'inchiesta, sul foglio. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, buongiorno. Perfetto, funziona benissimo anche il suo, così come spero anche per Francesco Cancellato che è il direttore di Fanpage. Cancellato, buongiorno. Siamo qui, buongiorno, grazie per l'invito. Ecco, allora, dicevamo la maggior parte dei quotidiani oggi parlano ancora di questa attesa, di questo attacco, di quello che si teme, perché appunto ci dicevano, guardate, è questione proprio di ore e direi che non sembra assolutamente scesa questo livello di allerta. Anzi, e tuttavia, diciamo, se c'è un elemento comune agli articoli che possiamo trovare oggi è questa sottolineatura di come in realtà l'Iran non cerchi affatto una guerra totale. Dobbiamo credergli? Allora, onestamente e inaspettatamente l'Iran sta frenando la sua reazione. Ci sono degli elementi che lo fanno capire chiaramente. Che per domani a Jeddah ci sia un incontro dell'organizzazione per la cooperazione islamica richiesto dall'Iran e sembrerebbe, ovviamente l'ordine del giorno è l'assassinio di Aniglie e la situazione medio orientale, però che abbia richiesto un incontro con molti paesi arabi e islamici proprio per affrontare il problema e capire qual è la realtà questo ci fa capire che probabilmente l'Iran non vuole passare subito alle vie di fatto e quindi ci dovrebbe dare un altro giorno per cercare di capire cosa possa succedere perché è stata richiesta proprio dall'Iran, accettata con molto interesse dall'Arabia Saudita che si trova in una situazione un po' particolare perché non è completamente dentro la coalizione araba alleata ad Israele ma era molto vicino a firmare gli accordi di Abramo e quindi sta cercando di giostrarsi molto in più il fatto che lo stesso Iran continui a, per esempio l'invito a Shoigu l'ex ministro della difesa ha rafforzato le difese, ha spostato Ecco perché l'altro elemento importante della giornata è la presenza in Iran di quello che appunto era l'ex ministro della difesa russo Shoigu che adesso si occupa di questo comitato per la sicurezza e che è stato anche però letto come un intervento per armare ulteriormente l'Iran così come specularmente Israele viene aiutato dagli Stati Uniti o non è così semplice? Allora Shoigu ha sicuramente portato nuovi accordi militari di collaborazione che comunque sono già in atto e sono già sviluppati negli anni però fa anche sempre parte di una parte di diplomazia che non è morta Mosca si sta muovendo, ha già invitato la prossima settimana Abu Mazen a Mosca che farà un giro anche in Turchia quindi lo farà soprattutto per raccogliere soldi ma soprattutto anche per aumentare la rete si sta muovendo qualcosa nelle collaterali dell'Iran c'è stato l'attacco questa notte alla base americana in Iraq da una milizia scita e gli Uti stanno continuando a sparare nel Mar Rosso però sono molto collaterali qui non c'è un attacco diretto è un temporeggiare ci sarà l'attacco io credo che un attacco l'Iran lo debba fare anche per dimostrare la sua forza non ci dimentichiamo che ci sono in gioco anche il ruolo iraniano come potenza regionale ha degli avversari a livello geopolitico importantissimi l'Arabia Saudita da una parte la Turchia dall'altra tutti che tirano da una parte all'altra i paesi del Medio Oriente per fargli capire chi è il paese guida e quindi quello sarà temo inevitabile Onorevole Cattaneo il ministro degli esteri italiano Tajani tra l'altro appunto proprio di Forza Italia è stato sollecitato a relazionare il Parlamento su quello che noi anche possiamo fare in uno scenario così complicato Antonio Tajani ha già di fatto preseduto la riunione d'urgenza dei ministri degli esteri del G7 che l'Italia presiede e quindi domenica si sono subito collegati per seguire da vicino l'escalation affinché invece ci fosse una descalation questo è il lavoro che intensamente sta portando avanti il nostro ministro degli esteri l'Italia ha un ruolo come sempre di autorevolezza e mediazione per far sì che si riesca il più possibile a calmare gli animi certo sappiamo bene che quell'area l'Italia è un'area con diverse diciamo aree di crisi gli uti nella zona dello Yemen sono stati appena nominati c'è Sbola in Libano ricordiamo che l'Italia ha un contingente molto rilevante in Libano secondo lei è giusto riportarlo a casa quel contingente come si sta pensando? io credo che a oggi non ci sia motivo per riportarlo a casa certamente bisogna lavorare per la sicurezza dei nostri militari ma i nostri militari sono lì per garantire la sicurezza dell'area quindi come dire con gratitudine dobbiamo sottolineare quanto il loro compito sia prezioso lo sia già stato in tutti gli anni scorsi e lo sia ancora di più in questi momenti io credo che l'Iran farà un atto qualcuno dice che sarà in qualche modo solo virgolette dimostrativo cioè perché non può non rispondere dopo che Israele è riuscito a infilarsi in maniera così pervasiva in casa propria perché ricordiamo che il leader politico di Hamas è stato eliminato in Iran appena dopo diciamo un importante evento politico come quello dell'insediamento del nuovo presidente quindi l'Iran ovviamente farà un gesto di reazione però in queste ore la speranza è che questa attesa sia anche frutto di un lavoro dietro le quinte di tanti soggetti posso dire sicuramente che l'Italia con il ministro Tajani è uno dei protagonisti per lavorare a una descalation poi certo bisogna anche mettere sul piatto qualche cosa sull'unità questa mattina c'è sulla prima pagina dell'unità una notizia che non ho trovato su nessun altro quotidiano scrive Marco Mancini è stato Biden a consegnare a Khamenei le spie del Mossad queste 22 persone che sono state arrestate nei giorni scorsi e che per l'appunto erano spie del Mossad erano persone davvero dentro ai gangli diciamo così della sicurezza e dell'amministrazione iraniana e che sarebbero state sacrificate evidentemente in nome di una forse reazione un po' meno violenta dell'Iran perché quando si parla di diplomazia poi alla fine si parla anche di queste cose che non sono particolarmente nobili gradevoli edificanti forse da raccontare ma fanno parte della realtà Iuri Maria Prado lei ha una rubrica cressoché quotidiana sul riformista proprio che riguarda le cose che arrivano da Israele come la commenta una notizia come questa l'ultima no non ne so nulla non ne so proprio nulla non credo che sia una cosa molto rilevante ma se mi permette io ho sentito parlare di interventi collaterali da parte degli Houthi da parte dell'Iran come se si trattasse appunto di piccole puntatine scaramucce temo che occorra cambiare un po' prospettiva nel senso io ricordo una bellissima fotografia di nostri parlamentari pacifisti a Rafa tutti forse ce la ricorderanno una bellissima immagine con tante bandiere di pace e con dei cartelli con su scritto cessate il fuoco su Gaza ora seize fire on Gaza now ecco questi medesimi parlamentari pacifisti nomi molto molto eminenti io non li ricordo in Iran non li ricordo in Libano non li ricordo nello Yemen non li ricordo in Siria non li ricordo in Iraq con dei cartelli con una scritta analoga ma con un'altra parte e cioè non ricordo cartelli con su scritto cessate il fuoco su Israele ora sa perché non me li ricordo mi sembra una domanda un po' retorica non me li ricordo perché non c'erano certo non mi ricordo perché non c'erano e non c'erano nonostante il fatto che da dieci mesi non da ieri non dall'altro ieri da dieci mesi da questi fronti viene mossa una guerra a Israele di cui non si parla una guerra attenzione che è molto poco collaterale se incenerisce il nord del paese si fa 60.000 profughi israeliani il nord del paese è inabitabile sostanzialmente questa è la situazione di cui non si parla una guerra che da dieci mesi non prende di mira questo o quel dispositivo bellico israeliano va bene prende di mira i civili israeliani e in queste ore non da oggi ma ancora in queste ore questi signori rivendicano come obiettivi legittimi i civili israeliani è la cosa di cui non si parla adesso da giorni e settimane stiamo aspettando questo attacco che viene chiamato una reazione ma reazione a che cosa all'uccisione di quel macellaio c'è una piccola differenza tra un atto militare contro un terrorista che può essere esecrabile come iniziativa per carità ma c'è una piccola differenza tra questo e il prendere di mira come ha già fatto l'Iran le città israeliane con 350 missili razzi droni sui civili questa guerra è quella di cui non si parla si parla soltanto di una guerra volendo assumere il suo punto di vista e quindi diciamo così non rassegnandosi all'idea che l'Iran faccia questo attacco e reagisca che cosa si dovrebbe fare? Allora una cosa che si dovrebbe fare a partire anche dalla nostra diplomazia perché poi di questo stiamo anche parlando io non sono un esperto militare una cosa che si dovrebbe fare è quella che non si fa è quella che ha fatto soltanto un signore Joe Biden prima dell'attacco di aprile quando gli si domandava ma senta cosa dice a questi regimi che minacciano di attaccare Israele lui ha detto don't non fatelo se no ci saranno conseguenze per quale motivo i leader continentali e anche quelli italiani di destra e di sinistra denunciano il pericolo dell'escalation che per carità preoccupa tutti ma non dicono la parolina semplice a questi signori che rivendicano di voler attaccare Israele dei civili israeliani e questi non gli dicono non farlo lo chiediamo all'onorevole Giuseppe Antoci del Movimento 5 Stelle c'è un motivo per cui ci si rivolge più a Israele rispetto a appunto un paese come l'Iran che viene considerato l'asse del male la testa del serpente e viene però tuttavia trattato con un riguardo diverso ma guardate intanto io condivido in pieno quello che si è detto prima cioè noi ovviamente ci aspettiamo un attacco questo attacco per l'Iran pensiamo che sia come dire uno dei motivi per mantenere gli equilibri come si dice come qualcuno ha detto per evitare di fare cattiva figura nella non reazione quindi noi sappiamo prendiamo comunque atto di queste ore dove sembra che l'Iran non voglia un escalation che porti alla guerra però la reazione ce l'aspettiamo certamente guardate in queste ore non servono e sono anche intollerabili alcune dichiarazioni su altri fronti come quella del ministro israeliano che ieri se ne è uscita con questa battutaccia della serie è giustificato è morale far morire di fame due milioni di civili aggatti ovviamente a Israele queste cose non li aiutano non li aiutano perché diventa può diventare come dire una sorta di isolamento che nessuno vuole il tema è pacificare questi territori e per pacificare questi territori occorre ovviamente la diplomazia che mi permetta di insistere Antoci perché proprio da parte del Movimento 5 Stelle è venuta una sollecitazione particolare proprio nei confronti della nostra diplomazia del ministro Tajani in particolare anche negli ultimissimi dibattiti sto parlando proprio degli ultimi giorni dicendogli insomma che ci dobbiamo dare da fare dobbiamo mostrare la nostra la nostra capacità cioè che cosa ci si aspetta che faccia guardi noi siamo siamo critici sulla sulla vicenda della diplomazia degli ultimi periodi perché noi abbiamo vediamo che ci sono delle degli atteggiamenti non degni della migliore diplomazia non le migliori diplomazie del mondo l'Italia ha sempre ha sempre dimostrato di avere la migliore diplomazia al mondo e che cosa non le torna è come se ci fosse una sollefazione alle guerre e questo è un tema che a noi ovviamente non piace come non è piaciuto ovviamente l'astenzione del governo all'ONU sul cessato il fuoco su Gaza ecco cancellato io io non ho ben capito quali sono diciamo così le accuse che vengono rivolte e adesso ci ritorneremo su questa vicenda certo c'è sicuramente un'informazione molto lacunosa sui nostri quotidiani oggi per esempio solo per per darvi alcuni spunti una giornale un quotidiano come il tempo mette molto in evidenza una notizia che riguarda il personale proprio dell'ONU a proposito perché almeno nove persone sono state riconosciute come coinvolte nei fatti del 7 di ottobre adesso sto cercando mentre vi parlo l'articolo per farvelo vedere ho qui accanto il mio Francesco che me lo eccolo qua che me lo può riprendere vi volevo far vedere ecco la rilevanza con cui viene data questa notizia Andrea Riccardi firma questo articolo se voi lo cercate su altri quotidiani farete molta molta fatica a trovarlo il Corriere della Sera ne dà notizia con un colonnino alcuni non ne danno assolutamente notizia così come a proposito di quello che appunto della dichiarazione di questo ministro israeliano di cui parlava Antoci adesso ve la ritrovo anche questa non è fortunatamente aggiungo io personalmente molto sottolineata perché forse non si deve come dire dare troppo adito ai rimestatori nel modo speculare questo tweet fatto da Patrick Zaki che parla degli ebrei come del popolo demoniaco forse non è di questo che abbiamo bisogno cancellato di che cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno penso di un po' di razionalità che mi pare stia mancando su tutti i fronti in questo contesto non lo dico ovviamente in merito alle parti in causa ognuna delle quali fra l'altro ha la sua conta dei morti e ha la sua conta dei disastri che questa guerra questa recrudescenza di una guerra che ormai secolare sta causando il timore vero ovviamente è qua diciamo metto la razionalità occidentale in primo luogo è che si eviti un escalation che l'omicidio di Kaniye in Iran potrebbe potrebbe scatenare il tema è che prima si diceva chi tocca la palla chi può far qualcosa a livello diplomatico in questa partita e mi fa sorridere pensare che l'Italia possa fare qualcosa se nemmeno Stati Uniti e Cina riescono a fare qualcosa partiamo dalla Cina che qualche settimana fa aveva manifestato l'intenzione in qualche modo di recitare un ruolo attivo per la risoluzione del conflitto ormai esteso a quasi tutto il Medio Oriente e si è ritrovata diciamo Israele che ha ucciso Kaniye in Iran poco dopo le elezioni iraniali l'insediamento del nuovo presidente peraltro un cosiddetto moderato e pensiamo agli Stati Uniti pensiamo agli Stati Uniti che si sono ritrovati anche loro a dover gestire le conseguenze di un attacco dopo poche ore dopo la visita o neanche giorni ma praticamente ore poco dopo la visita di Netanyahu al congresso americano evidentemente non allertati diciamo di questa di questa azione se la sensazione è che se nemmeno Stati Uniti e Cina né tantomeno la Russia non sappiamo cosa sia andato a fare Shoggyu a Mosca noi oggi abbiamo intervistato un analista esperto dell'area esperto di cose russe ci dice che il tentativo forse è più diplomatico che altro è più un tentativo anche lì di evitare un escalation che altro ma la sensazione in qualche modo è che la guerra tra Israele e Iran sia abbastanza fuori controllo e sensazione mia lo sarà fino al 5 di novembre perché a questo punto le elezioni americane diventano come dire una sorta di spartiaco paradossalmente l'incertezza sul nuovo presidente americano sembrava essere Trump ha aggiunto diciamo incertezza a quello che succederà in questa fase perché finché diciamo in qualche modo si sapeva chi sarebbe potuto essere o se aveva la ragionevole certezza avrebbe potuto essere Trump il nuovo presidente degli Stati Uniti tutti si stavano più o meno preparando a quello scenario ora che la situazione si fa più incerta si fa più incerto anche diciamo quello che succederà da qui all'autunno non c'è dubbio dobbiamo andare in pubblicità prima però vi volevo leggere questa agenzia che è appena uscita una DN Kronos che ci informa che la televisione israeliana sta dando notizia del fatto che la stampa internazionale in particolare gli Stati Uniti si siano rivolte alcuni funzionari della coalizione internazionale statunitense si sono rivolti a Israele dicendo a Israele non esagerate quindi a proposito di quello che ci diceva prima Prado lo dice la televisione israeliana che appunto questi funzionari avrebbero chiesto a Tel Aviv di non reagire in modo troppo forte qualora dovesse arrivare la risposta la controffensiva dell'Iran quindi come vedete forse l'unico appello sarebbe appunto state fermi tutti se fosse possibile oggi qualcuno ragionava su no in realtà lo fa lo fa avvenire e lo faceva anche l'osservatore romano diceva tutti dovremmo comportarci come il signor Cecchettin che alla diffusione degli audio del signor Turetta ha preso non solo le distanze ma l'ha condannata a quella diffusione ha detto che lui telefona il signor Turetta si sentono perché appunto aggiungere odio a odio non aiuta nessuno andiamo in pubblicità non è facile sono le otto e mezzo la nostra diretta continua stiamo parlando appunto di quello che potrebbe accadere e nel frattempo sta accadendo perché appunto cose succedono in Medio Oriente in attesa di questa reazione da parte da parte dell'Iran all'azione all'uccisione di Hanie intanto ero curiosa di sapere da Matteo Giusti il nostro ricercatore di Limes se ritiene in qualche modo verosimile questa notizia che dicevamo oggi da solo l'unità di questo clamoroso colpo a sorpresa giustamente così lo definisce la stessa unità di un Biden che consegna a Khamenei le spie del Mossad all'interno dell'Iran che avrebbero piazzato l'ordigno quindi non un missile ma un ordigno che ha ucciso appunto Hanie e soprattutto appunto quale pensa possa essere poi l'evoluzione di tutto questo intanto non avevo questa notizia secondo mi sembra enorme clamorosa cioè il Mossad che accetta di smantellare completamente una rete di spionaggio che ci saranno stati necessari anni per metterla insieme in un paese complicato e controllato come l'Iran consegna 22 persone quindi distrugge la sua credibilità internazionale perché il Mossad ha sempre fatto dell'affidabilità dei suoi servizi una delle sue forze quindi distrugge la sua credibilità spiega anche la dinamica dell'attentato perché noi non sapevamo se era un missile o una bomba e quindi si parla già di una bomba e semplificherebbe tutto perché non potrebbe permettere più all'Iran di accusare Israele di un reato internazionale per un attacco quindi mi sembra molto utile intanto a Israele per sganciarsi da una possibile accusa per dare un contentino all'Iran voi non fate altre mosse vi consegniamo in toto a nostra rete se poi in toto magari ce ne sono altrettanti o hanno consegnato alcune persone noi non sappiamo chi sono in realtà queste però onestamente che il Mossad sacrifichi tutta la sua rete di spionaggio in Iran per che cosa per una realpolitik per evitare un'escalation mi sembra un po' un po' strano se fosse vero o comunque sarebbe una mossa che potrebbe veramente portare una de'escalation perché dice all'Iran abbiamo catturato e ora mi immagino che fine possano fare tutte le spie israeliane in Iran abbiamo bonificato il nostro territorio da un nemico pericoloso sa perché glielo chiedo non solo perché ovviamente è una notizia importante e ci incuriosisce ma perché in questi giorni in cui Israele non solo ha colpito Anie ma ha messo a punto anche un'altra serie di omicidi mirati ministro dell'economia e poi ezzbolla eccetera eccetera in più di una persona hanno detto ah ma allora Israele è capace di fargli gli omicidi mirati perché ha raso al suolo Gaza sono due cose molto diverse Israele ha sempre colpito come quando voleva in ogni parte del mondo e questo non è una novità è una capacità che ha il servizio segreto israeliano di arrivare un po' ovunque la reazione militare su Gaza è stata una reazione secondo me anche un po' di pancia nel momento e si sta trascinando da moltissimo tempo ma sono due cose diverse una reazione militare anche per rispondere al proprio elettorato in primis di Netanyahu ma comunque al popolo israeliano l'altro sono mosse politiche che servono a decapitare i vari movimenti perché non pensiamo che sia semplice per un movimento che sia Hezbollah o Hamas sostituire un capo di lungo corso di capacità diplomatica come nel caso di Anie o di combattimento come chi è sul terreno con semplicità quindi ogni volta che Israele colpisce e uccide un leader indebolisce fortemente quel movimento sostituirlo si si può fare però cambia se per esempio al posto di Ania arrivasse Meshal significa rompere una parte dei rapporti con l'Iran perché è un antiraniano quindi sposterebbe l'asse di Hamas da un'altra parte quindi l'Iran non vuole Meshal che è già stato a capo di Hamas perché romperebbe un po' i rapporti con l'Iran e la Siria si riavvicinerebbe ancora all'Egitto al Qatar e magari alla Turchia che non aspetta altro il tutto è estremamente complicato la nostra come dire politica io glielo ho chiesto prima ma a fronte anche di una insoddisfazione espressa dall'euro parlamentare del Movimento 5 Stelle e Antoci su quello che è il lavoro della nostra diplomazia glielo richiedo Cattaneo perché evidentemente c'è qualche cosa che forse potremmo fare e non facciamo una maggiore incidenza rispetto a quello che insomma è No io questo francamente non lo credo credo che sia ingeneroso e credo che l'opposizione in Italia troppo spesso scivoli nel cercare nel contesto diciamo della crisi che c'è Medio Oriente occasioni per fare un'opposizione politica interna che è sbagliatissimo perché comunque anche questa mattina e lo voglio dire io non possiamo almeno sottolineare quanto il giudizio rispetto alle azioni di Israele in generale dell'Occidente non è che le possiamo decontestualizzare dal contesto in cui avvengono cioè l'Iran è un paese che teorizza la scomparsa della cartina geografica di Israele cioè quando si dice ma bisogna ambo i lati fare insomma un cessate il fuoco sì siamo tutti d'accordo però come fai a dialogare con chi teorizza e scrive nero su bianco che tu devi scomparire dalla cartina geografica come non facciamo a non sottolineare che nell'Occidente noi democrazie dialoghiamo dobbiamo giustamente passare dati parlamentari ci sono le opposizioni che hanno la libertà di andare nelle piazze ecco in Iran in Cina in Russia ma nemmeno nella striscia di Gaza tutto ciò è stato mai permesso perché Hamas diciamo ha vietato dal 2004 in avanti ogni tipo anche di esercizio democratico nella striscia di Gaza cioè se ogni tanto non ricordiamo anche il contesto cioè Israele non è che compie questi atti deliberatamente lo fa come atti di difesa e diciamo l'Italia con questo governo senza esitazioni sta al fianco di Israele sta come sta al fianco dell'Ucraina perché ogni tanto io credo ci sfugga quanto sia fragile il contesto internazionale in cui ci stiamo muovendo cioè le democrazie sono aggredite da totalitarismi e mentre noi diciamo ci dilettiamo in esercizi di distinguo di autocritica e viva non possiamo però anche ogni tanto ricordare che tutto ciò ci è permesso perché siamo in un mondo libero gli altri non sono un mondo libero c'è troppa anche lo sa che ci sono quelli che dicono che proprio perché Israele è una repubblica dovrebbe dare il buon esempio comportarsi in modo diverso e non dovrebbe fare tutto quello che sta facendo dovrebbe lasciarsi come dire spazzare via come teorizza l'Iran ci siamo dimenticati dell'Iran con quanta crudeltà reprime le opposizioni interne reprime ogni libertà parliamo tanto giustamente dei diritti delle donne ma poi ci dimentichiamo che in Iran una donna che si permette di togliere il velo viene presa bastonata o delle ragazze che festeggiano una laurea vengono portate via allora questi sono dei valori assoluti o poi ce ne dimentichiamo perché dopo un po' come dire invece amiamo un esercizio di autocritica delle nostre democrazie che ci porta secondo me a volte a deragliare troppo la sinistra io credo che anche nel nostro paese alcune parti della sinistra su questo abbiano un atteggiamento quantomeno ambiguo e a volte troppo troppo relativizzante come dire ha ragione sono andati davanti a Rafa a protestare a quelle stesse persone perché non sono entrate a Gaza a difendere i diritti degli omosessuali a difendere il diritto della democrazia li avrebbero probabilmente arrestati o forse anche peggio quindi ogni tanto cerchiamo anche di ricollocare come dire il contesto di crisi all'interno di uno scenario più ampio anche sull'Iran l'Iran nel 79 fino al 79 era un paese in cui c'era molta più libertà c'era lo Shah che garantiva libertà poi in quella fase storica probabilmente ci furono delle esagerazioni la reazione interna fu tale per cui da allora invece c'è una Repubblica Islamica che di libero non ha nulla però c'è un popolo presso quello iraniano io sono stato in Iran e c'è un popolo che se uno lo conosce è totalmente diverso dal regime che lo tiene diciamo sotto una cappa di oppressione è un paese che ha anche una vocazione laica nella sua storia nella sua identità figli di una storia di 5.000 anni della Persia ecco se noi decontestualizziamo e tutte le volte ce la prendiamo solo con Israele io credo facciamo un torto alle democrazie e al valore assoluto che come dire le democrazie portano avanti nel principio di libertà gli altri paesi di libero non hanno assolutamente nulla Cattaneo quello che le risponde chiunque ha ascoltato il suo discorso e non è d'accordo con lei è che ci sono almeno 40.000 morti a Gaza esattamente esattamente aspetti no esattamente no esattamente 40.000 morti a Gaza lo sostiene Hamas la fonte Hamas questo non significa che forse non sia vero però è corretto dire che lo sostiene Hamas e che non c'è modo peraltro di fare verifiche diverse nel senso che anche le agenzie governative dell'ONU o le ONG che ci sono alcune hanno confermato questa cifra l'ONU anche dopodiché per l'appunto scopriamo che rispetto a quelle accuse che erano state lanciate all'inizio e che poi invece erano state rigettate dicendo no per carità figuriamoci l'ONU potrebbe mai essere coinvolto in questi orrori invece adesso è lo stesso ONU che ammette che almeno nove funzionari erano coinvolti nei massacri del 7 di ottobre Antoci come si guardi io io mi sento di dire intanto che se c'è qualcosa di ingeneroso ritengo che sia quello di non prendere atto di una vicenda che non io non noi non nessuno anche la corte di diritti umani descrive come una violenza immane qui nessuno è contro Israele ovviamente tutti abbiamo in questi anni anche detto delle violenze sui diritti in Iran tanti abbiamo combattuto per questo quella è una vicenda a parte però consentitemi di dire che l'atteggiamento di Israele dopo il 7 ottobre legittimo e non è prima si parlava di una reazione di pancia che sta continuando guardate che non fossero neanche 40.000 magari sono 30.000 i morti però c'è un momento in cui bisogna dire basta bisogna impegnarci tutti per far cessare questa violenza sui bambini sulle donne sui civili noi dobbiamo impegnarci su questo altrimenti noi giustifichiamo tutto qui il tema non è Israele l'Iran qui il tema sono le persone che muoiono anche di fame allora io questo voglio dire quando io parlo di impegno della diplomazia facendo tra altro dicendo che noi abbiamo la migliore diplomazia del mondo siamo stati famosi nella storia per averla attivata certamente non saremmo lago della bilancia ma sul tema di Israele con Gaza va trovata immediatamente una soluzione ma non lo dico io ripeto lo dice la Corte dei diritti umani c'è un limite a tutto e noi dobbiamo fare qualcosa per evitare tutto questo sì è un po' vago questo qualcosa nel senso che ma non perché non voglio dare peso alle sue parole ma se continuano a spararsi che cosa pensa che sia come fa il suo gruppo perché a me ha colpito molto appunto questa accusa proprio direttamente rivolta a Tajani di non fare quello che dovrebbe fare di essere imbelle sostanzialmente di fronte a questa crisi e di dover quindi rendere conto perché glielo avete chiesto proprio espressamente davanti al Parlamento di quella che è la nostra attività diplomatica che cosa vi aspettate esattamente guardi il tema non è solamente il conflitto Israele Gaza o il tema dell'Iran noi poniamo un tema più ampio il tema più ampio è quello delle guerre il tema più ampio è quello di spiegarci perché non ci si astiene sul cessato il fuoco cioè noi abbiamo bisogno di capire di capire qual è la linea che non può essere una linea di traino rispetto alle decisioni degli Stati Uniti o di un altro Stato cioè capire qual è l'indirizzo perché altrimenti anche i cittadini rimangono disorientati Iuri Maria Prado la vedevo molto molto nervoso quando si parlava delle vittime lei non crede che ci siano 40.000 vittime? No io non so quante ce ne sono di vittime sono sicuramente tantissime troppe e soprattutto molte di queste sono innocenti tanti bambini come giustamente si dice la cosa che non si dice è che queste vittime troppe oscenamente troppe ci sono perché sono usate come sacchi di sabbia da parte dei macellai perché salvo credere salvo credere che l'esercito israeliano sia il più inefficiente del mondo e da sempre non si impiegano dieci mesi per fare la guerra ai malati ai cardiopatici ai bambini e alle donne incinta ok quindi diciamo innanzitutto che la guerra è fatta secondo lei non c'è stata quindi anche questa reazione di pancia di cui parlava ma non mi sembra una reazione di pancia quella che aspetta giorni e giorni prima di intervenire mandando avvisi di evacuazione eccetera dopo 1200 scannati e 250 rapidi non mi sembra di pancia questo vuol dire che non sono stati commessi errori e anche eventualmente non ho nessuna difficoltà a ipotizzarlo crimini nell'esecuzione delle operazioni militari a Gaza certamente è possibile certamente è possibile ed è possibile legittimo condannarli a una condizione alla condizione che si dica e si denunci la pratica costante dell'uso come sacchi di sabbia dei bambini e dei civili da parte dei macellai del 7 ottobre la pratica costante dell'uso dei bambini soldato cui nelle scuole pagate con i soldi della cooperazione internazionale si insegna a uccidere gli ebrei si insegna che il loro futuro sarà florido e felice se estingueranno la cosiddetta entità sionista queste cose non vengono dette da chi deplora la morte dei poveri bambini che sono senz'altro poveri bambini innanzitutto per responsabilità di chi li usa come sacchi di sabbia se posso solo ricordare il leader di Hamas che è stato eliminato in Iran Hanei proprio a fine ottobre scorso aveva teorizzato che c'era bisogno per lo stato palestinese del sangue dei bambini delle madri degli anziani del popolo palestinese era anche colui che era delegato a trattare era un uomo di pace era un uomo di pace no non sto dicendo questo sto dicendo che c'è anche un bellissimo filmato c'è anche un bellissimo filmato di vostri colleghi dell'Ansa che raffigura questo signore con un dolcissimo sottofondo di pianoforte nel ricordo di questo moderato che è stato ucciso ognuno ricorda i propri morti come vuole stavo dicendo che questa almeno era la funzione ufficiale che aveva all'interno della sua organizzazione e quindi la domanda a questo punto non ci sono moderati nella leadership di Hamas non ci sono moderati sto dicendo che il suo compito era di mediare credo anche che sia molto grave che dopo tanti mesi sia emerso ormai con chiarezza che c'erano all'interno diciamo di funzionari dell'ONU qualche operatore che ha attivamente partecipato alla pianificazione e realizzazione degli atti terroristici del 7 ottobre questa è una cosa francamente veramente grande grave a conclusione come dire di questa prima parte della nostra discussione fra cancellato ma anche giusti al volo se un'eventuale diciamo così reazione dell'Iran che si spera si auspica che non sia appunto troppo violenta e anche la controreazione insomma di Israele insomma possa far dire che è chiusa qui la partita e sia anche un modo per chiudere la partita a Gaza me lo auguro me lo auguro fortemente a Gaza è in atto una catastrofe umanitaria questo indipendentemente da chi sono le responsabilità noi dobbiamo avere l'onestà intellettuale di ammetterlo questa catastrofe umanitaria diciamo andrà avanti fino a che forze come Israele e Iran cioè le due superpotenze regionali che si muovono dentro questa guerra continueranno diciamo in qualche modo a portare avanti una strategia di escalation come quella che Netanyahu con l'omicidio di Anihe fondamentalmente ha portato avanti e come quella che una eventuale reazione dell'Iran che sia particolarmente violenta concorrerà a portare avanti serve uno sforzo per il cessato il fuoco che si stava portando avanti con grandissima fatica e temo come ho detto prima che fino al 5 novembre la fatica per arrivare a questo cessato il fuoco sarà sempre di più con i regimi che non ci piacciono si tratta anche la diplomazia avanti l'abbiamo visto tra Stati Uniti e Russia con lo scambio dei prigionieri l'altro giorno l'abbiamo visto nelle timidissime aperture tra Stati Uniti e Iran nelle ultime settimane ad esempio sul riavvio del programma nucleare da parte dell'Iran o con moderate aperture di credito al nuovo presidente iraniano Dopezeskian cioè io credo che in qualche modo la diplomazia non debba mai fermarsi di fronte anche a regimi che hanno idee terribili e che non ci piacciono e che portano avanti strategie come nel caso di Putin ovviamente criminali da questo punto di vista io mi auguro diciamo che in qualche modo quella che la terza guerra mondiale a pezzetti come l'ha definita qualcuno di molto più importante di me in qualche modo riesca pian piano a ricomporsi verso delle almeno dei cessati del fuoco nei prossimi mesi perché oggettivamente ripeto e mi fermo a Gaza ma potrei parlare del Donbass la situazione a livello umanitario è pesantissima e il bilancio dei morti siano esse donne e bambini sicuramente innocenti è devastante per le nostre coscienze non c'è dubbio giusti al volo perché poi dopo fra l'altro la dobbiamo salutare quindi lo voglio sapere da lei potrebbe essere appunto l'inizio di una guerra qualcuno dice su base regionale potrebbe anche essere invece il momento in cui si chiude tutto gli egiziani sono moderatamente ottimisti il vertice di Roma lei è stato proprio al Cairo il vertice di Roma aveva lasciato agli egiziani che sono ovviamente un attore determinante delle buone speranze l'uccisione di Anie ha complicato tutto ha rallentato tutto ma non ha bloccato le trattative sono previsti altri incontri ovviamente con l'Egitto e il Qatar a tirare le fila di tutto ma gli egiziani continuano a parlare di una possibile svolta ovviamente ci sono tanti punti da chiarire ma Israele ha presentato un nuovo piano Hamas si è detto disposto ad ascoltare quindi in realtà ci sono delle speranze piuttosto concrete che le diplomazie anche in momenti drammatici come questo non si fermano assolutamente Egitto e Qatar ovviamente con gli Stati Uniti stanno facendo molto e quindi il vertice di Roma è stato un passo in avanti importante ma è soltanto la prima tappa allora io mi auguro che sia così ovviamente e ci auguriamo anche che questa offensiva iraniana non si abbatta in maniera troppo violenta andiamo in pubblicità vi aspetto subito dopo perché comunque rimaniamo in ambito internazionale ma scendiamo come dire un po' più nelle questioni locali e nazionali parliamo di soldi non solo delle borse internazionali ma anche di quelli di casa nostra dopo la pubblicità Allora sono le 8 e 58 stiamo guardando i titoli di apertura come dicevo dei quotidiani questa mattina erano tutti sono tutti incentrati su questa caduta delle borse Tokyo l'abbiamo detto praticamente in diretta ieri mattina era crollata del 12 e 4 per cento nel frattempo invece adesso c'è stato quello che in gergo si chiama rimbalzo quindi siamo invece a più 10 per cento e insomma si potrebbe pensare che è stata solo una fiammata che è finito tutto lì che pericolo scampato ma non solo per chi dovesse come dire avere interessi nel mercato azionario ma anche per tutti noi che poi ne subiamo in qualche modo le conseguenze abbiamo invitato Yanina Landau di Class CNBC che sono molto contenta di ritrovare qui questa mattina con noi perché ci aiutasse a capire allora che cosa sta succedendo alcuni giornali dicono che è colpa dell'intelligenza artificiale dei listini dell'intelligenza artificiale altri dicono che è colpa di questi dati sull'occupazione statunitense che sono pare drammatici anche se fino a ieri ci dicevano che erano buoni e anzi Biden se ne faceva avanto per cui spiegateci un po' allora prima di tutto secondo me il messaggio che bisogna dare è anche un po' colpa di noi giornalisti anche questi titoli partiamo dal fatto che queste fasi di correzione ci sono sempre state questa sicuramente è stata più in attesa degli altri ma non c'è assolutamente da preoccuparsi anche soprattutto per chi ha un portafoglio di medio e lungo termine queste sono situazioni che fanno male chi entra e esce fa un market mover tutti i giorni quindi questo bisogna anche subito dirlo non andare nel panico questi titoloni terremoto sciagure quant'altro lasciamo il tempo che trovano e secondo me tutto sommato fanno bene anche al mercato fanno bene i risparmiatori e soprattutto si possono creare delle posizioni adesso le andiamo a spiegare in cui magari entrare in questo momento sul mercato è più conveniente rispetto a prima quindi diamo anche un messaggio tenendo sempre presente che la maggior parte delle persone non ce le ha le azioni e non investe sul mercato azionario l'unica preoccupazione della maggior parte della gente è mi alzeranno i tassi non me li alzeranno significherà che si va in recessione significherà anche lì ecco anche lì sono bisogno anche di medio e lungo termine più che occuparci come dire delle varie posizioni dei singoli investitori che mi fa piacere per loro se hanno addirittura il giardinetto delle azioni io preferirei che ci concentrassimo come dire sulla maggior parte degli italiani no va bene ma il discorso importante è che secondo me ci sono una mix di fattori sicuramente il tema che c'è ed è effettivamente così una bolla per quanto riguarda gli high tech sono otto big tech che hanno di fatto monetizzato il mercato sono cresciute in maniera esponenziale nel 2023 a livello sicuramente eccessivo rispetto al loro valore sottostante promettendo dei risultati effettivi che poi non sono arrivati perché hanno giocato molto sul tema quindi ha ragione il giornale dice l'intelligenza artificiale è quella sbornia che ha illuso tutti e ha gonfiato i prezzi assolutamente anche perché qualcosa ancora di non tangibile abbiamo poche cose che sono effettivamente reali abbiamo già CPT roba del genere ma insomma poi sul quotidiano questa applicazione tanto se ne parla abbiamo parlato di posti di lavoro che potrebbero andare via insomma quella potrebbe essere è uno dei ragionamenti sicuramente i dati americani anche se questo io sono abbastanza dubbiosa su questo punto di vista perché è vero che sono solo 114 mila posti di lavoro su 175 ma non sono pochi e poi perduti no guadagnati sì guadagnati rispetto a quello quello che doveva essere quindi è sempre un segno più il tema anche della disoccupazione siamo sotto il 5% che insomma con un paese come l'America il tema sicuramente uno dei temi forti è forse che la Fed doveva intercettare un taglio adesso non l'ha fatto si parla della possibilità di farlo all'interno di questa della prossima tornata quindi entro questo arco di tempo io non credo che questo avverrà il semplice fatto che sarebbe un segnale sicuramente negativo vorrebbe dire che effettivamente c'è una problematica che secondo me nell'immediato non c'è poi c'è sicuramente un tema geopolitico che quindi non significa che anche noi contestualmente non rischiamo oppure dobbiamo aspettarci anche noi il taglio dei tasse perché l'abbiamo già fatto a settembre se c'è non c'è adesso intramarket sicuramente non c'è e poi un altro tema sicuramente quello geopolitico le stabilità questo pesa tanto è vero che continua a crescere l'oro che da sempre un bene rifugio ma c'è un altro elemento che pochissimi pochissimi giornali non si trova da nessuna parte hanno toccato che è un tema giapponese che si chiama carry trade è un gioco sui tassi cioè io quello che è successo in Giappone è che c'è stato un rialzo inaspettato dei tassi di interesse sono stati tagliati in altre parti in Giappone che erano firmi tanto tempo si è alzato cos'è questo giochetto che muove mille miliardi di dollari chiamalo giochetto un giochetto è infatti una forma speculativa molto usata di cui poco si conosce che succede che io compro giusto per presegarlo in maniera molto semplice io compro prendo a prestito del denaro con i tassi bassissimi su una moneta tipo lo yen e vado a comprarci dell'azionariato o altre realtà in altri paesi con un altro cambio cosa succede che se io l'ho comprato che il tasso era basso e mi si alza in maniera importante magari quello magari il dollaro invece fanno un taglio dei tassi io non ho più quel guadagno previsto posso avere delle grosse perdite e questo ha creato un blocco una marea di liquidità perché tutti sono corsi e ripari in alcuni casi sono stati proprio bloccati e questo meccanismo ha creato il panico sui mercati e sono diversi fattori alcuni sono molto tecnici molto precisi e di cui poco se ne parla ok quindi possiamo dire che non c'è come dire molto di concreto però questo la fa vedere hai detto correttamente tu c'è tanto e poco di concreto e questo cosa fa pensare che è una situazione che probabilmente perdurerà di solito si pensa a un ciclo che può essere di circa un mese ma i sottostanti sono buoni quindi per questo dico siamo pazienti rimaniamo chiunque nelle proprie posizioni perché è una tempesta ma le tempeste passano ok allora Cattaneo invece il nostro governo oggi sui quotidiani ieri Meloni si vantava molto di essere riuscito a ottenere un'altra rata del PNR 11 miliardi anche se la domanda resta sempre sì noi ci danno i soldi però i lavori sono indietro non li stiamo spendendo questi soldi abbiamo iniziato a spenderli anche a un ritmo più rapido rispetto diciamo a come li abbiamo ereditati io ricordo bene che a inizio del governo diciamo l'indice percentuale di spesa dei soldi del PNRR era attorno al 3% qualcosa veramente di esiguo adesso diciamo quel indicatore è salito anche perché in Italia questo diciamolo con l'inestà possono cambiare i governi ma se tu le leggi per fare degli appalti complessi ci mette sempre x mesi ho capito ma è il vostro dovere proprio infatti abbiamo rivisto abbiamo rivisto il codice degli appalti abbiamo dato la possibilità a tanti stazioni appaltanti di dare segnazioni dirette aumentando i massimali l'abbiamo fatto noi ci davano diciamo dei corrotti ancora adesso qualcuno ce lo dà perché abbiamo più fiducia nelle stazioni appaltanti quindi in realtà stanno oggi cantieri nelle ferrovie non c'è una strada non c'è un'autostrada che non abbia un cantiere i cantieri sono aperti basta vedere ovunque esatto quindi i cantieri sono aperti ma tutti insieme e questo deve essere una buona notizia tutti insieme e qua dobbiamo decidere anche io quando ho fatto il sindaco poi apriamo i cantieri la gente quando il cantiere era aperto si lamentava l'importante è che i cantieri vengono aperti nel rispetto dei tempi aperti e nel rispetto dei tempi ancora di più chiusi che non ci siano varianti perché la variante porta allungamento dei prezzi e dei costi e che i denari si spendano e si spendano anche bene perché io devo dire che in giro sul PNRR che è stato pianificato per carità in un tempo non voglio puntare il dito però ci è fatto tutto molto di fretta alcune cose che siano realmente degli investimenti che poi io da liberale voglio fare un investimento con denaro pubblico se questo mi genera una crescita economica a volte nelle opere che vedo in giro non sempre ho la sensazione che ci sono investimenti che genereranno crescita economica sono a volte degli investimenti che erano nei cassetti che sono stati portati avanti però adesso non ci darebbero la rata se non fossimo comunque in linea con l'avanzamento atteso e il ritmo di spesa è superiore a quello di qualche mese fa per il resto sull'economia vorrei anche io dare come dire delle parole di conforto giustamente prima richiamato al fatto parliamo agli italiani che magari di azionario ne hanno poco allora vorrei dire due cose uno paradossalmente con la crisi dell'azionario è salito il rendimento dell'obbligazionario e forse un po' più di italiani hanno l'obbligazionario chi ha fatto i BTP valore tutto sommato quelli emessi e quelli hanno il loro rendimento e possono star tranquilli gli italiani che li hanno acquistati secondo rispetto all'ultima grande contagio che è quello del Lehman Brothers del 2008 qua non c'è niente di tutto ciò perché quello si poi partì come un tema diciamo di crisi finanziaria ma poi arrivò come sull'economia reale adesso non è questa la situazione che sta superando propendo per chi sta dicendo che in qualche modo una bolla eccessiva sulle grandi tech diciamo si sta un po' come dire riallineando una correzione del sistema propendo diciamo per questa interpretazione del mercato la fermo un secondo perché voglio sentire Antoci su questa questione del nostro andamento economico perché fra l'altro ieri devo dire c'era sul fatto quotidiano un articolo interessante che sottolineava come avendo il governo stesso attraverso e anche facendosi forte di un bollettino della Banca d'Italia ammesso che il volume delle entrate fiscali sarebbe stato maggiore e quindi sì insomma la manovra ovviamente non sarà semplice però forse non sarà così complicata come ci si aspettava perché ci sono 24 miliardi e 6 di entrate in più fiscali stimate ecco quest'articolo la metteva diciamo in correlazione con il supposto e tanto raccontato buco del super bonus dicendo ah ma come allora non era vero che c'era il buco del super bonus in realtà non sono le stesse cose però insomma capisco che ci sia una sorta di revanche da parte di chi quel super bonus l'aveva promosso sì mi faccio intanto la ringrazio perché lei ha fatto una puntualizzazione necessaria cioè alle persone ai cittadini interessa cosa accade alle loro famiglie quindi sulla crisi finanziaria cosa accade ai tassi mutui se si va in recessione questo è fondamentale è un momento al quale partire mi faccio a dire solo due parole sulla tema della crisi finanziaria che è chiaro che noi e soprattutto il mercato statunitense ha una percentuale di sovraesposizione sul big tech su quelle che vengono considerate le sorelle quindi Apple Microsoft Meta diciamo le aziende grosse che quando ovviamente hanno un calo rappresentando tra l'altro il 25% delle 2500 aziende quotate in borsa postretti quindi parliamo di numeri grossissimi ovviamente c'è un grande contraccolpo questo non deve far gridare all'allarma e sono d'accordo con quello che si diceva prima perché dobbiamo stare attenti anche a stabilizzare le motività degli investitori però non penso che questo sia fortemente dovuto anche alla problematica dell'economia americana però è chiaro che i tassi così aumentati e così alti necessitano una rivisitazione e questo non solo in America ma ovviamente ci aspettiamo che ciò avvenga è presto anche sul tema europeo un'altra piccola come dire considerazione su quello che si diceva prima sul PNRR pensate quanto noi siamo ovviamente felici di spendere quei fondi che ricordiamo li ha portati un signore che ha un nome e cognome che si chiama Giuseppe Conti e questo gli è stato riconosciuto da tutti però attenzione su liberi tutti vorrei ricordare al collega Cattaneo che il liberi tutti può provocare delle problematiche serie così come è già accaduto in Veneto con i 600 milioni di PNRR in base cosa intende per liberi tutti no no scusi scusi cosa intendo non capisco cosa intende per liberi tutti no quando si parlava prima noi abbiamo aumentato i massimali abbiamo fatto io ho detto attenzione a quelli l'ho chiamato liberi tutti attenzione perché è giusto far spendere i soldi ma ci vuole il giusto bilanciamento anche con la tutela di quei fondi perché vorrei ricordare che l'83% delle attività che sono in istruttoria in Europa sul PNRR sulle truffe l'83% di quelli istruttori riguardano l'Italia allora cosa voglio dire che qui stiamo sperperando i soldi del PNRR non certamente questo ma voglio dire attenzione però attenzione a come spendiamo questi fondi che se noi li mettiamo nelle mani sbagliate per recuperare ci vogliono 30 anni quindi questo mi sentivo di dirlo come completamento come appello finale la devo dire che saremo molto più attenti di quanto sono stati loro sul super bonus saremo molto più attenti no sul super bonus le rispondo perché i dati sul super bonus le rispondo perché i dati in cui stiamo parlando dimostrano che sul super bonus sono state non dette tante cose che andavano dette perché noi non parliamo degli incassi dell'IVA non parliamo dei posti di lavoro e poi soprattutto parliamo del buco del buco scusate se c'era un buco il bilancio è stato fatto un falso in bilancio mi state dicendo che lo Stato italiano ha fatto un falso in bilancio allora noi dobbiamo essere anche cali correzioni in corso d'opera e come sa ci sono stati diciamo riflessi anche su figure importanti e apicali a partire dalla ragioneria dello Stato ci dobbiamo fermare anche quelli sono atteggiamenti ingenerosi come? anche quelle diciamo come dire di buttare le croci sulle persone sulle singole persone possono essere anche atteggiamenti ingenerosi mi riferisco a quello che lei è ovviamente capisco il suo giudizio politico però io adesso mi devo fermare perché devo andare in pubblicità Francesco Cancellato subito dopo vengo da te che ripartiamo dagli Stati Uniti andiamo a vedere come Trump si sta rivolgendo a proprio favore invece tutta questa vicenda altro ribaltone dopo la pubblicità sono le 9.21 ultimo a parte di Omnibus Francesco Cancellato ributtiamo un occhio negli Stati Uniti questo Trump che si appropria immediatamente del rovescio in borsa e coni allo slogan Kamala Crash se lo rivolta a favore e ora rischia però di nuovo di vederselo contro se il rimbalzo invece poi porta a di nuovo come dire a un mercato azionario normale ma davvero potrebbe rimettere come dire in gioco le sorti di questa competizione elettorale così particolare così strana vabbè le sorti di queste elezioni sono in gioco e saranno in gioco fino al 5 di novembre attualmente nonostante Kamala Harris da un punto di vista generale quindi se facciamo un sondaggio su tutti gli Stati Uniti abbia recuperato e sia in vantaggio su Trump o pari il New York Times dice 47 pari 538 assegna quasi due punti di vantaggio a Kamala Harris stiamo parlando comunque di un dato nazionale in un'elezione dove tuttavia sono 5 o 6 gli stati chiavi in cui si combatte e in cui si decideranno le elezioni segnatamente Arizona Nevada Pennsylvania Michigan Wisconsin e forse Georgia in buona parte di questi stati Trump è ancora davanti mi riferisco in particolar modo ad Arizona e Nevada per cui sarà fondamentale per Kamala soprattutto per Kamala Harris trovare un vicepresidente in grado di rovesciare le sorti o comunque di permetterle di colmare il gap che era enorme o quasi incolmabile quando ancora era Biden candidato cosa che peraltro dovrebbe fare fra oggi e domani la scelta del vice sì poi ci sarà la convention ovviamente di Chicago la convention democratica che in qualche modo confermerà il tutto la questione chiave però è che se uno va a vedere i sondaggi ad esempio in Arizona Nevada l'ho visto i sondaggi dicono quali sono secondo voi le tematiche più importanti per le elezioni l'economia è al primo posto c'era con 31-34% di persone che le indicano come il tema più importante fino ad oggi l'economia non era entrata nella campagna elettorale americana come in tutti quei casi in cui le cose vanno abbastanza bene ma non troppo bene c'era una situazione comunque abbastanza tranquilla dati occupazionali buoni una situazione per gli Stati Uniti in un contesto di instabilità generale comunque positiva è chiaro che un crash in borsa potrebbe creare problematiche io sono abbastanza d'accordo con la collega che mi ha preceduto però questa sembra più una tempesta estiva che è un crash vero e proprio quindi forse la dichiarazione di Trump situazionista abilissimo grande animale da campagne elettorali che di coniare questo Kamala Crash potrebbe essersi rivelato improvvido o comunque un po' come dire affrettato un po' rischioso vediamo come andrà avanti ma ci saranno talmente tante di cose Flavia da qui al 5 novembre che è di ribaltamento ci aspettiamo colpi di scena colpi di scena ancora a ripetizione Landau prima diceva potrebbero dovrebbero togliere i social di nuovo Trump era una delle voci che stavano girando in queste ore che lo staff di Trump è sicuramente molto preoccupato era successo in passato che gli avevano proprio non solo chiuso il X perché insomma per quello che diceva ma proprio la gestione sua dei social perché effettivamente stanno correndo per una posizione sicuramente unica al mondo e le parole vanno soppesate è vero che riconduciamo tutto al personaggio di Trump ma tutto ha anche un peso e chi sta dietro di lui lo staff che queste cose le capisce le comprende beh insomma una parola e poche due sono troppe ecco a proposito di colpi di scena io approfitterei visto che ho qui come ospiti un importante esponente di Forza Italia e un altrettanto esponente del Movimento 5 Stelle per fare rispettivamente a ognuno di voi una domanda sui colpi di scena perché ci sono anche da noi dei vostri rispettivi partiti partendo da Antoci onorevole Antoci perché tutti sanno che Giuseppe Conte ha lanciato questa consultazione fra gli iscritti che poi dovrebbe portare a decidere quale sarà la struttura del Movimento la linea del Movimento addirittura il nome del Movimento e se ne sta discutendo da giorni anche se poi l'appuntamento sarà a metà di ottobre insomma la data sembra per il momento essere confermata quella oggi ci sono diversi articoli sui quotidiani in particolare vi segnalo un'intervista che potete trovare sulla stampa a Davide Casaleggio che come sapete è il figlio di Gianroberto Casaleggio che è stato uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle che è molto critico nei confronti di Conte dice Conte ha collezionato insuccessi nei 5 Stelle conta solo il potere non ho mai pensato che fosse l'uomo giusto per guidare il Movimento è diventato inutile e non ha più obiettivi il Movimento ormai discute solo di regole interne per sopravvivere Antoci che ci dice? ma cosa devo dire? penso che ci può dire intanto se è d'accordo oppure no per esempio perché pare ci sia una fronda interna che non è così dalla parte di Conte e così contenta per l'appunto di tutti questi cambiamenti ovviamente io di questo articolo non condivido nulla se non altro perché quello che è accaduto in questi anni nel Movimento 5 Stelle è sotto gli occhi di tutti anche questa scelta di fare la Costituente è una scelta di mettersi in gioco di ascoltare gli attivisti di riboltare la piramide e partire dal basso è un atto non solo di grande umiltà ma anche nell'interesse proprio di arrivare dove dovesse essere necessario a cambiare alcune cose cioè noi stiamo che cosa bisognerebbe cambiare secondo lei cosa è la cosa più importante da cambiare ma guardi ci sono tanti temi sui quali alcuni sono d'accordo altri no guardi anche le dico sui successi e sugli insuccessi io vorrei sottolineare una cosa le parlo delle nostre delle elezioni europee sono le ultime il nostro 10% dottoressa non può essere messo a confronto con le percentuali degli altri partiti perché noi abbiamo una attivazione delle candidature completamente diversa cioè noi abbiamo ci sono stati dei capilista fra i quali io ed altri ma ci sono anche delle persone che sono arrivati là con il metodo dei clic uno può essere d'accordo che hanno portato alle liste 800 voti 1000 voti quando sappiamo che gli altri partiti se una persona non ha 20 30 40 mila voti non è che non la cambiano neanche ci discutono allora come facciamo a mettere come dire a confronto la nostra impostazione con quella degli altri allora ci sono tante cose che questa costituzione bisogna dirlo ai sondaggisti non vi hanno mai isolato da quel punto di vista una cosa siamo una cosa siamo convinti che il presidente Conte così come ha portato avanti con lungimiranza il movimento 5 Stelle in questi anni lo porterà ancora avanti nei prossimi anni con la stessa lungimiranza e facendo anche della base la voce principale all'interno del movimento perché comunque Conte deve rimanere al vertice Conte non può non rimanere al vertice e il rimanere al vertice di Conte non mi pare che sia messo in discussione da nessuno in questo momento che lo mettono in discussione ovviamente mi pare scontato no nel senso che visto che viene discusso tutto magari si discuteva anche di quello perché a proposito di vertici invece Cattaneo guardi che ce n'ho anche per lei invece da voi si dice che si stanno scaldando i muscoli ma questa volta per davvero o Marina o per Silvio Berlusconi che cambierà tutto intanto se la notizia bomba è quella che la famiglia Berlusconi aumenta il suo interesse per Forza Italia è una buona ottima notizia noi che abbiamo voluto fortemente che il nome Berlusconi rimanesse nel nostro simbolo però vi sta anche dicendo che non state andando esattamente nella direzione che loro auspicano Marina Berlusconi che dice che per esempio sui diritti è molto più vicino alla sinistra di quanto non sia allora se diciamo lo sprone a Forza Italia è quello di rimanere aumentare il suo ruolo centrista di essere una forza con una postura di governo con diciamo una proiezione verso il futuro di modernità di sfide che vanno colte dobbiamo essere leader e non follower questo assolutamente è benvenuta ma questo non segna nessuna contrapposizione con la leadership di italiani abbiamo appena ottenuto un grande risultato del 10% alle elezioni europee poi che un grande partito questo Berlusconi lo ha sempre insegnato debba continuamente rinnovarsi evolvere il rinnovamento c'è e ci sarà e dovrà essere ancora più forte la linea che è una cosa un po' guardi ogni contributo a famiglia Berlusconi è non solo benvenuto ma anche da parte mia auspicabile tra l'altro tutti indirizzi che ritengo fortemente coerenti con la nostra storia e giusti nel posizionamento sulla questione dei diritti civili io l'ho già detto sono assolutamente d'accordo sono d'accordo che noi su alcune battaglie liberali in economia dobbiamo essere con la schiena dritta indipendente dai nostri alleati penso anche in questi giorni nel dibattito che si sta facendo sui vari extra profitti che non ne vogliamo sentir parlare la nostra proiezione di partito che sta al governo ma guarda sempre all'esterno ai mercati alle imprese all'economia reale non la politica per la politica che sta nel palazzo ma la politica che assorbe le migliori energie da fuori questo deve fare Forza Italia la buona notizia però è che nello spazio politico che va da Meloni e Schlein c'è un sacco di spazio e mi sembra che anche dall'esito delle ultime elezioni emerga con chiarezza che Forza Italia è l'unico vero partito di centro che può interpretare questo ruolo e se dobbiamo allargare il perimetro anche dell'intero centrodestra è Forza Italia che deve fare questo lavoro e quindi benvenga un'apertura anche ad erodere un po' di consenso dall'altra parte gli altri lavorano al campo largo noi siamo senza imbarazzi la forza che deve presidiare quell'area il cosiddetto centro e lo facciamo e lo dovremo fare con ancora maggior forza voglia di innovare rilancio pieno di energie idee e io credo che abbiamo un futuro molto importante davanti un minuto devo chiudere ci aspettiamo ancora un po' di turbolenze come ci avevi detto oggi vediamo anche come stanno aprendo i mercati oggi è una giornata importante abbiamo dei risultati bancari importanti a cominciare da MPS quindi sarà ricordiamoci che il settore bancario è quello che ha trainato fino adesso soprattutto la nostra borsa aspettiamoci delle turbolenze ma secondo me già a settembre saranno dimenticate almeno ce l'auguriamo perfetto la linea coffee break noi ci vediamo invece se volete domani mattina buona giornata